Ciao a tutti ragazzi da The Fashion Call of Duty Black Ops 2 top 10 kills signori, la numero 18, mancano due settimane a Call of Duty Ghost ragazzi, cominceremo anche con quello, giustamente faremo anche la top 20 kills di Black Ops 2 ragazzi, come sempre il culo regna in Call of Duty, beh ovvio, è un gioco, cioè no, è meglio se non dico niente, quanto cazzo di tempo ci ha messo, ci ha messo due ore a arrivare quella granata, ma è veramente dal 9, mi aspettavo un colpo di coltello, cioè ormai le mette, queste qui, sono clip incredibili, non per la bravura, ma giustamente per il culo, ma come cazzo rimbalza, ma quando rimbalza così tempo? Il culo regna l'ha fatto ucciderlo, è diverso. Ma che cosa spara? Le palline rimbalzine? Sono le palline rimbalzine. No, sono palline di cacca, va bene? Ecco, il numero 8 c'è ancora che cosa di più sculato, guardate, lui cerca di uccidere uno in no scoop, non uccida quello! Come? Chi ha ucciso? Un questo, questo qui ha bisogno di quello che è morto. Ma pensa a te. Ma, adesso guardate, adesso guardate dove è passato il porietile, guardate dove stava mirando Livid Mark. Il buco della serratura, dove cazzo è passato? È passato in mezzo a 77 muri, e guardate che sta mirando alle scale! Ma non è neanche in linea! Ma tra l'altro, proprio sembra che lo colpisca questo. Ancora proiettili rimbalzini su Black Apps, ragazzi. No, adesso questi sono teletrasportati. Al numero 8 c'è Easy Kicks Demo, ragazzi, la clip l'ha intitolata It's a rain in tomoc, alleluia, it's a rain in tomoc. Qui è l'età della pietra. Guardate il 360, bellissimo. Quanto anno sta uccidendo? Bellissimo, sì, l'età della pietra. Comunque si vede che si gioca col joystick, col joypad. Sì, perché si gira in linea. Comunque il 360 è stato assurdo. Ma è anche tutto il resto che sta facendo. Adesso, giustamente, crepa con un headshot di un ballistico, perché merita. Giusto, giusto, giusto. Al numero 6 troviamo Zucca Power, ragazzi. Guardate, gli sparano da dietro, lui si gira, tripla! E' Halloween dovevi metterla prima, tra poco, no? E' la zucca, no? E' la zucca, dovevi metterla. Ma siete che stronzate. Ma la devi smettere, tu sei malato. Hai visto cosa è combinato. Al numero 6 c'è Pixmi lì, ragazzi. Se prima abbiamo visto il re delle tomo, adesso vediamo il re del ballistico, giustamente. Vediamo. Sempre l'età della pietra. Uno. Due. Contiamo insieme, ragazzi. Tre. Vi sento contare. Quattro. Cinque. No, hai sbagliato, erano cinque, coglioni. Ah, sbagliato. Ah, sbagliato. Sette con questo, dai. Sette, sette. Ecco lì, sette. Ma tu pensi che sia finito? Tu pensi che sia finita? No, non è finita. Adesso è finita. Ah, per quello? Vabbè, dai, meglio. Il cadoppino. Comunque anche questa bella clip, perché sbaglia veramente poco. E qua, ragazzi, c'è X-Life, ragazzi, sta giocando in hardcore modo, ok? Sì, esatto, perché devo dirtelo subito. Sta giocando in hardcore modo, però guardate che laccia di disastro fa, fa una sette fiddly. Sì, veramente. E prende il visato orbitale in due secondi. Come si chiama questo fucile qua? Il pacere. Il pacere. Ha messo pace tra di loro. Per piacere. Cioè, quando tu la pace non la puoi... La imponi. Io impongo a modo mio la pace. Esatto, vi uccido tutti. Mi sembra giusto, comunque. Al numero quattro abbiamo Duri, Zin, ragazzi. Search and Destroy. Uccide uno, uccide un altro, ne manca ancora uno. C'è ancora uno vivo dall'altra squadra, lì cosa fa? Durrina. E dice, perché devo uccidere in maniera normale? Perché? Io lo faccio di stile, ragazzi! Oh my god! 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 No! No! Sembra un cano in calore. Ma che c***o? Cioè, stavo giocando... È che non si vede, scodinzola anche. In realtà stavo giocando... Sì, vuoi tirarmi un catarrone in faccia? No, ne ho appena aspettato sullo schermo, se non ti sei accorto. Schifo. Vabbè, ragazzi, è bella qui perché ne fa tre e l'ultimo lucido di stile succede. Ho capito, ma chi gli dava la sicurezza che sia venuto fuori lì il nemico? Ma che c***o ne so? Al numero tre c'è iDarkangel, ragazzi, che è scoppiato quanto quello del pacere. Solo che qua non è il narcomor. E non ha il pacere. E non ha il pacere, è al... non ha il pacere, è giusto. Ha il Vector. Guardate che... Se non lo sai tu! Ha il Vector, ha il Vector. Qualchiamo al radar. Lui sa tutto, Taylor fa tutto. Uccisione confermata, qualche male... L'attacco fulminante. L'attacco fulminante. Si vede che da un po' che non giochiamo, eh. Eh, vabbè, che c***o... Male! Male! Dammi qua queste robe. L'attacco fulminante, quad feed, uccide uno, uccide l'angolo. Si, ma non lo uccide? Tutto un macello. Ma non si girano? Ma no, perché i silenziatori non lo vedono sul radar? Si, ma ho capito. Si, boh, ma comunque, se non morri cinquanta volte per mano sua. Eh, vabbè, ma sono tutti commentati quelli che non io ne frega un c***o di niente, capito? E dicono, boh, qualcuno c***o l'avrà ucciso, no? E va avanti, capito? Al numero due c'è Rexo in C, ragazzi. Il nome, spero che sia giusto perché non si legge un c***o praticamente. Dunque fa tre triple headshot feed e poi va vuoto, va vuoto e dice, vuoto io? Allora faccio tripla per recuperare. Si capisci? Ma perché? Ma com'è possibile? Tripla e un'altra, attenzione. Prima fa tre headshot consecutivi, poi tripla con un colpo e poi un altro. Assurdo. E al numero uno ragazzi non c'è, al numero uno... Cosa c'è di più epico di quello che abbiamo appena visto? Al numero uno non c'è bravura, ok? Lo metto, lo ammetto. È culo. È culo. Lui tira il missile hailstorm, ok? Questa bisogna spiegarla bene. D'accordo. Fa quad feed, no scusate, due feed ragazzi. Sì, l'uccide due dai. Lui uccide due. Poi il ragazzi va avanti e vede, ah c***o mi stanno rubando il punto A. Allora io mi precipita ad ucciderli. Guardate, lui punta il fucile ed esplode tutto, guardate eh. Bam! Tripla. E' del suo missile hailstorm che ha tirato prima. Cioè, come c***o è possibile? Come c***o è possibile? Ma che c***o fai? Ma perché va da quella parte? Vai dritto almeno, eh? Guarda cosa ha scritto. Braining hailstorm. Perché è intelligente. No, è idiota. È un missile hailstorm. No, è idiota. Ha fatto una strage. Quindi lui ha mirato... Quell'altro che sta... Cioè, ma questo ha mirato e... Ammirato ha fatto hop hop hailstorm. Mi serve aiuto. Clip bonus. C***o sono così. Questa è paratica. Questa è sparso come i negri. Ah, dov'è? Quanta sono sopra di te? E due. Sopra si sopra. Sopra. Sopra, non sopra di là. C'è farlo. Oh, no! Oh, no! 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 Che cosa dipende da lui? Che cosa dirà la testa epica! Io credo che allo stadio facciano meno casino. Ah, sì. Penso che vedere come una roba così in live ti emozioni. Sì, è su! È giù! È su! E giù! Guaàààààààààààààààààà! Questo è epico! Questo è buono ragazzi. Un'acqua incredibile. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace. Continuate a cagar su il nostro canale. E anche sulla pagina di Facebook mi raccomando. Tirate l'acqua! Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao! Ciao.